una delle più grandi difficoltà per il neofita è montare bene il sapone ma no perché io sia chissà chi per di di fa così dei faccola ti do il mio semplice consiglio visto che ho fatto qualche piccolo short in merito ma spezzandolo va magari uno si perde un pochetto del quadello ha detto a lui oggi devi dire qualcosa sul montaggio del proraso qualsiasi rosiero vabbè rosso è più facile perché c'è il burro dei carité mentre il bianco il verde generalmente sento che c'è delle difficoltà ma oggi le stupisco ancora di più perché che vado a fare guarda un po te faccio vedere già quello che va a utilizzare rasoietto mano libera speriamo che non ammazzasse si citrus e setola del maiale te lo spiego subito dopo la sigla ben ritornato sul canale come stai tutto bene o manca poco a natale io già mi so portato avanti il lavoro mi sto portato avanti il lavoro questo non è ma io ne parana casacca perché maria quasi fino alle ginocchia allora oggi è un bellissimo insomma un po così però fa caldo strano oggi che giorno fa un po ben 16 16 16 16 16 marcoledì 16 novembre allora in tanti me l'avete scritto su tutte le piattaforme possibili immaginabili perché vi consigliano giustamente come ho sempre consigliato io di iniziare con dei saponi facilmente reperibili come il proraso palmolive denim quello che trovate insomma diciamo che quello che va per la maggiore è il proraso sono tutti abituati affezionati a questo marchio però io ho sempre detto che è un sapone non dico da intenditore da professionista perché sarebbe surreale una cosa del genere tutti i saponi si montano c'è quello che fa più schiuma quello che vuole meno acqua quello che tende ad essere un po vaporosetto quello che è vaporoso non ci potremmo fare niente però su una cosa dobbiamo concentrarci il montaggio puoi fare sia in ciotola che in viso la differenza qual è io sento ogni tanto passa a me sta parola alcune cose che veramente mi fanno no a capponare ma non c'è una pelle di coccodrillo certe cose che secondo me sono delle po esagerazioni allora perché monto in ciotola e a chi conviene monto in ciotola allora montare in ciotola è un piacere un gusto è una cosa in più una cosa che ti permette di goderti il momento del del montaggio della saponata non è che migliora la saponata è una cosa in più l'ho sempre detto infatti se notate avete notato parlo per quelli che mi seguono da svariati anni ogni tanto la uso mentre prima la usavo molto spesso perché era proprio rituale il gusto il piacere di farlo adesso invece voglio concentrare su altre cose nel senso sulla sensazione che c'è in viso però ritorniamo al discorso al neofita quasi conviene perché inizia a capire come fare un buon montaggio allora su vari social si vedono delle cose che per me ripeto sono veramente folli c'è saponate ma neanche c'è il sapone c'è un velo e poi si passano i rasoi a manetta come se non ci fossero domani sbagliatissimo perché là vai a rovinarti il viso completamente poi mi sembra che non facciano queste grandi rasature se vede ancora al pelo sotto quindi più scenografica la cosa il neofita grazie alla ciotolina vede e capisce se quel sapone lì è pronto o meno perché se ti metti un sapone che veramente ancora non è montato bene è acquoso e vaporoso che succede potresti avere una rasatura deludente cioè il sapore non deve seccare in viso deve rimanere certo non è che sta 4-5 minuti così e rimane così perché parliamo poi vabbè se parliamo di quelli da banco quello che possono offrire giustamente è così il montaggio in viso lo potrebbe anche fare il neofita sicuramente lo fanno però pure là devi sapere calibrare l'acqua quindi diciamo che la ciotolina è un po' come le rotelle sulla bicicletta ti aiutano un po' a capire prima come funziona il mezzo poi piano piano ne togli una e poi levi l'altra e hai preso l'equilibrio una volta che c'è l'equilibrio te poi diverti come te pare o ciotola o non ciotola poi c'è il discorso scattol la scattola è quella che in poca parola ci metti l'acqua calda dentro e serve a mantenere la ciotola in temperatura e il sapone anche a temperatura che poi se il sapone è troppo riscaldato evapora quindi anche lì attenzione però diciamo che i passaggi fondamentali per fare una buona saponata anche il proraso perché ho preso il maialino di Cotfella perché spesso il consiglio che viene dato è qua è al supermercato compra il pennello che ce l'ho ma oggi non ho qua scusa me l'ho spostato questo qua questo qua che non è un 49 come tanti dicono è un pennello fatto proprio sulle richieste specifiche del lavoro raso quindi tanti che fanno i fenomeni all'89 non è l'89 ha dichiarato omega non lo dico io allora che succede che se non attivi bene cioè non fai il primo utilizzo fatto bene quindi una saponata a vuoto lo lasci una notte un giorno dentro l'acqua il pennello quasi te mangerà un po' il sapone quindi c'è la difficoltà tra virgolette delle prime armi appunto nel prelievo del sapone stesso del montaggio e il rapporto che hai poi con il pennello allora io oggi sbaglierò non sbaglierò però voglio far tanto devo fare solo sto pezzettino qua voglio cercare di consigliarti questi piccoli passaggi che sono semplici a parte a beh il proprio inconfondibile del proraso verde che storia un mentolato piacevolissimo che ricorda proprio l'italianità da una volta da una volta perché perché oggi i giorni in Italia sono ancora pochi quelli che seratano con un rasoio di sicurezza con mano libera con uno sciavette perché c'è sempre il discorso del tempo bla 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 questo tempo poi tutti il cuore tutti ma il bello è appunto il piacere poi vabbè pure una cosa abbastanza ecologica allora il mio consiglio basilare è quello di mettere un po' di acqua calda all'interno del sapone tranquillo non succede niente non se rovina non se rovina allora lasciarlo per qualche secondo perché il proraso è sì un sapone non dico duro perché non è proprio duro è come se fosse una pasta se tu metti il dito affonda poi è normale che più passa il tempo quando l'hai utilizzato la prima volta più passa il tempo più il sapone tenderà a essere un po' più secco ma è normale perché come tutte le cose dopo un po' prende aria e se ne perisce ma non è che se rovina l'importante è non sentire l'odore dell'ammoniaca all'interno dei saponi l'importante è quel mazzante cosa che sto a dire allora come prima cosa ma lascio a qua un pochetto il visetto perché lo devo bagnare e poi c'è lo strapporto con il mano libera oggi che non ho affilato l'ultima volta l'ho utilizzato scoramellato e poi l'ho rimesso via tranquillo allora ho atteso qualche istante mi raccomando lo so che tu magari che sei veterano mi dirai ma sempre sta argomenti sì perché le persone si scrivono mi fanno le domande poi non riesco a rispondere a tutti quanti allora riesco a fare un video dedicato allora il pennello deve essere scarico dall'acqua veramente scarico tolgo l'acqua in eccesso faccio lavorare bene le punte del pennellino allora se te fermi qua no? se te fermi qua vado in viso no? non c'è un senso giusto? perché non è un sapone montato il trucco che ho sempre utilizzato è di fare tanti tanti giri sul sapone parlo del proraso ne faccio veramente tanti ne stanno pure a chiamare aspetta ma tanti tanto non te finisce il sapone c'è chi per esempio leva con le ditate quintali di sapone e pensa di stare a risparmiare qualche cosina ma quello poi è tutto discutibile come quello che dico io ci mancherebbe altro allora fatto questo il sapone in questo esatto momento ha bisogno di un po' di acqua non esagerare quindi certo non otterrò dei risultati adesso faccio il video didattico non otterrò dei risultati pari a quello degli artigianali americani greci quello che vuoi quello che te pare perché comunque sia diciamo che questo è un sapone standard mentre questi artigiani si mettono lì che ha tanta pazienza provano riprovano riformulano li fanno fino a che gli viene il sapone no? che monta subito che rimane idratato e di che saponata che mi sono fatto è normale che se io poi sto 20 minuti fermo così merato solo qua perché sto iniziando appunto a comprendere la rasata tradizionale qua è normale che mi zecca lo fanno quasi tutti i saponi e io la saponata me la so fatta vedi? però il pennello non mi ha mangiato il sapone per il semplice motivo che è stato attivato in modo corretto che poi non è una cosa così particolare così esagerata cioè basta lasciarle in ammolo come se compri una pennellessa nuova e devi in bianca a casa il ragionamento è quello e poi senti anche un po' d'odore di maiale capita nei naturali qui un pochetto ancora si avverte ma fa parte della natura questo che lascio qui sicuramente dopo non potrò riutilizzarlo perché tenderà un pochetto a se cazzo allora io ho fatto tutta sta manfrina però sai che c'è non ho fatto una cosa importante scudo mi sposto così quanto ci piace sta roba quanto ci piace aspetta che ho le mani bagnate umide e bestia pure questo è un gesto che va fatto con calma con l'ansia la velocità sembra che sai che devi fare non ti mangi la linea non ti mangi la linea sembra mangi la linea sono finito pezzettino ho portato via ti mangi la linea lui fa un macello a me sembro un anziano quando faccio così che poi sai che c'è a che mi stupisco certamente riesco a fare delle affidature che vanno bene in certi casi proprio delle sciuffè che pensavo a noi mi raccomando quando mi chiedete del mano libero non comprate quelle cose su ebay su amazon e costano 20-30 euro perché non taglieranno mai sono rasoi tra virgolette da esposizione non so rasoi che puoi affilare cioè un boker che c'è io costa sui 100 euro capito è un 5 ottavi pure abbastanza piccolo e va bene per chi fa rifiniture perché il lavoro solo fa bene però cioè una voglia ma proprio si fa così moriamo ammazzato invece no devo aspettare devo attendere sicuramente ho fatto qualche ciofega però nonostante ciò vedi il mio pro raso rimane addosso cioè questo è il tipo di video di quelli proprio boom ma che l'ho fatto a fa' sto coso guarda anzi nel pennello è rimasto surprise dovrei imparare a parlare inglese guarda surprise e qua invece un po' me ne sei bagnato perché è finito è finito allora prendiamolo dal barbone questo tappetino così virile maschile che me fa grosso come non so che cosa me sta da affassito sto maione e tu manco te immagini è una tunica è proprio grosso però comunque vedi un pochette ha resistito sul mio viso nonostante ciò sto chiacchierà il problema è che non voglio rovinare la riga che mi sono fatto perché veramente qualcosa come se ho visto questi giorni mi sembrava che era abbastanza lineare mi sembra poi non so aspetta che così non mi sento sicuro che invece così te lo senti arca miseria io sta parte io sta parte la odio io sta parte la odio col mano libra ho fatto pure un micro tagliettino vedi col calore aspetta col calore tende a a seccare purtroppo mentre rimane già più facile con la crema della proraso perché rimane non lo so più idratata questa è una cosa che non si può vedere quindi questo è il massimo risultato che io posso ottenere da vedi tende poi essere un po' evanescente per quello di quest'anno dei saponi che purtroppo hanno sta caratteristica però tutto sommato il lavoro solo fa scusa certo non c'hai la protezione di un che te posso di un zingary man di qualsiasi altra cosa però lavoro solo fai diciamo che è più un sapone da una rasatura abbastanza celere senza aspettare troppo tempo vedi come sei ristretto ma che è ma che sono questi rumori strani devo andare a divino ma però taglia eh aspetta vedi taglia taglia che dici non è venuta mazzo brutto ma c'è mamma mia che è sto cove mamma mia scusa stando in bagno però sei ridotta l'acqua dentro quindi sto po' mamma mia no qua mi sembra un po' mozzicata fermo un po' certo brutta così costa lo scalino ma che sto ma che sta azzuzzeria cioè mi fido più senza senza sapone che co che col sapone da barba quindi tornando dal suo bel discorso io adesso questo me lo poso qua poi dopo gli do una scoramellata e buonanotte e il discorso è quello nel montaggio conta molto il quantitativo di sapone che vai a prelevare che è veramente molto importante però sappi come ti ho accennato ti ho fatto vedere che alcuni purtroppo tendono a essere un po' vaporosetti o evanescenti consiglio mio se vuoi una cosa che sia più funzionale più facile parti con la crema con la crema sempre magari della proraso o qualsiasi altra che te pare e inizia da quello e te lo accorgerai poi quando cambierai diciamo il sapone che renderai che non sono artigianale ti renderai conto che il montaggio risulta più corposo più idratato il sapone stesso poi gioca un po' di più con l'acqua ma l'acqua serve al viso nostro per si ammorbidire il pelo e allo stesso tempo anche per far scorrere meglio ancora di più il rasoio sia sicurezza sia mano libera quello che te pare e quindi avere una rasatura più piacevole parlamo si chiaro a me vede persone mi dispiace dirlo non c'è locco chi utilizza i prodotti moderni ma vede certe le facce non proprio tanto felici di farsi la barba perché è una noia per molti vederli con i rasoietti con questa schiuma stanno là davanti così no adesso è un momento bello dai il momento dove stai con te stesso dove trovi anche le tue fragilità come faccio io mi metto sempre in discussione con mano libera ho iniziato sette anni fa dopo un po' dei mesi mi è stato regalato un mano libera ho iniziato con quello non c'è nessuna incertezza oggi c'ho l'incertezza ma perché è una cosa mentale mia la mano a me è che mi trema tutto il giorno mi capita quando utilizzo queste cose che poi so che quello è meno pericoloso dello chavet no non funziona non deve andare così e poi ho sempre rapporto con te che mi guardi perché tanto io so che tu potresti essere quello che tra virgolette apprezza quello che faccio potresti essere quello che può ma scrive a destra ma anche a sinistra di me a me ripeto io me la faccio vedere così come so senza problemi perché siamo umani siamo tutti quanti così quindi ne ho fida mio questo è il consiglio che ti do se vuoi fare il passo cioè il passo vero e proprio per i miei gusti invece te comprate il pennello di maiale magari devo far più avanti comprate in sintetico perché il sintetico te da meno noia cioè secondo me te da molta meno noia rispetto al naturale naturale è bello perché è tradizionale c'è il suo fascino però come praticità io mi trovo meglio col sintetico c'è molto più feeling e occhio perché poi col sintetico quando arrivassi al naturale un po' di errori li fai con il naturale perché è come vedi il paragone è come questo è come radersi con mano libera e radersi con un multilama qualsiasi che esso sia se utilizzi un multilama prendi mano libera e mano se non l'hai mai utilizzato diventa un po' un macello o lo riutilizzi dopo parecchi mesi diventa un problema perché c'è un po' di incertezza perché sai che con quel quello moderno vai dritto tranquillo certo la cosa che mi fa rita a me pure questa quando mi dicono ah ma io ci metto un attimo a farmela barba prendo la macchinetta l'accorcio poi faccio solo il pelo cioè perdonami un attimo c'è la razione di sicurezza in mano la razione di sicurezza anche se è a pettine chiuso la barba così te la leva tranquillamente te la leva tranquillamente e non strappa non strappa poi giustamente c'è il discorso la metta azzeccata o non la metta azzeccata ma era so io anche se io prendo un semplice G.T. King o un Edwin Jagger 89 non deve accorciare la barba cioè poi un discorso tuo di praticità però vedo tante cose secondo me totalmente sbagliate cioè accorcio rado solo il verso del pelo perché c'è la pelle sensibile tutti abbiamo la pelle sensibile tutti ce l'abbiamo poi c'è chi ce l'ha iper sensibile chi soffre di follicolite chi soffre di quello di quell'altro quello che ti pare però in sostanza tutti noi abbiamo anzi siamo sensibili perché certo poi se ti spiegano le cose male è che è lì che tu continui a fare sempre tanti errori tante passate dalla stessa zona perché non ti spiegano che devi andare verso del pelo non devi far pressione devi rilassarti devi tendere un pochetto la pelle in modo eccessivo ce ne stanno tante purtroppo io quello che posso fare racconto la mia esperienza anche se è fatta male per far capire appunto a te che ti avvicini che il mondo della rasura tradizionale è vasto è grande è piacevole poi giustamente ognuno va a concentrarsi sulle proprie tempistiche quanto tempo ci posso dedicare e niente questo è il mondo del neofita neofita che secondo me ti ripeto usando dei piccoli accorgimenti come questo di caricare un po' più il pennello sicuramente non si trova una saponata che se ne va via perché poi ricordate sempre che il viso è caldo quindi è normale qualsiasi sapone tende un pochetto a seccarsi non te butta giù ma prova a fare quello che ti ho detto io e vedi se trovi miglioramento o meno vabbè io dopo tutto sto sermone i peli che mi stanno entrati in tra la bocca chiudo ti ringrazio per aver visto il video però vi fa una cosa aspetta un po' un attimo mazza la spada al volo no perché mano libera è una cosa che a me cioè no cosa ho fatto sì perché come tutte le cose scusa prima che se salutiamo come tutte le cose se tu non te ci impegni non sbatti la testa addosso al muro e te ne freghi di quello che te dicono io sono sicuro il piano è il risultato d'arrivo c'ho le pazienze e costanza non sai quante volte ho sprecato il mio tempo quando ero ignorante e tuttora sono ignorante sul mano libera quante ne ho sentite quante voci contrastanti e qua dell'angione ho cominciato a fare come l'avete voi e il risultato ce l'ho avuto c'è questo adesso che è un rasoio industriale ma fatto da un'azienda che ha più di cent'anni sulle spalle se non erro se non erro sono riuscito a fare un filo decente cioè che mecerato e il problema è che devo riprendere la mano non te nico che c'hai voglia quando finisce il novembre di tagliare tutto quanto con lui perché devo riacquisire comunque la tecnica stessa la sicurezza quindi vedi sta sicurezza sta testardaggine quanto incide un discorso stupido e banale la barba che si fanno in tanti però è trascurato un momento trascurato ma invece no deve essere piacevole vabbè mi fermo quasi perché sennò te rimbambisco con tutti questi miei pensieri ogni tanto escono così da non so quale anticamera del mio cervello è stato per me un grande piacere stare a trovare in compagnia tua spero che sia anche la cosa sia reciproca la cosa noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando cerca di coinvolgere pure te amici parenti con la tradizionale non dico col mano libera ma nella tradizionale cioè si risparmia pure un sacco di bombolette buttate là ricariche testine che io ogni tanto vedo vicino i cassonetti la so gli buttati per terra cioè ma che come è possibile me lo domando però e qua se inquinate meno qua c'è meno spreco c'è meno impatto ambientale molto importante vabbè come dico sempre buoni acquisti buone sbarbate mi raccomando c'è sta il black friday in corso su rasoi godfella.com c'è sta pure il codice sconto che trovi sotto trovi anche il link per le donazioni per quanto riguarda il no shape november noi ci vediamo al prossimo video e e anche oggi ho fatto la figuraccia con il mano libera hai capito? lo saprei? e mo lo sai ciao ciao Grazie a tutti.